Per una banca ancorata al territorio, che cosa vuol dire guardare al futuro, magari con uno spirito un po' leonardesco? Beh, intanto, soprattutto il nostro lavoro è di sostenere gli investimenti in questo momento. Insomma, la finestra congiunturale è ancora positiva sull'economia globale, salvo la guerra dei dazi, che però speriamo che poi alla fine non conviene a nessuno farla, quindi non porti poi ad effetti particolarmente negativi. Da un lato abbiamo ancora il piano 4.0 del governo che dà dei buoni incentivi fiscali, insomma il nostro ruolo è cercare di avvicinare, di far trovare un po' di benzina alle aziende che vogliono investire, che in questo momento insomma sono molte, e vediamo che in questo momento fare investimenti produttivi, sfruttando nuove tecnologie, può essere, sfruttare in questo momento con tassi di interesse bassi e benefici fiscali, può essere una finestra davvero interessante per le imprese da prendere per investire.